I Vaisnava puri nel sentimento del rasa possono leggere il nome di Radarani in ogni passo dello scimabharu, in ogni parola dello scimabharu, e Maraja aggiunge che anche nella Bhagavad Gita, anche se in questo momento non si ricorda con precisione il verso che lo afferma, quindi traduciamo il significato profondo di questo verso, Sarvadharma Paritya Jaya, cosa sta dicendo Krishna Rajuna? quando si vuole occupare del Nitya Dharma, del Dharma Eterno. Quindi lascia perdere i Dharma temporanei. E quindi uno lo legge nella Bhagavad Gita, quando Rajuna raggiunge un certo livello, lascia perdere tutti i Dharma temporanei. Si capisce la differenza fra temporaneo e eterno. e poi dice mamma e kam. Mamma significa me. E kam significa solamente uno. Uno, uno, dos, tre, quattro, quattro, si? Uno. Uno solo, non due, tre, quattro. Uno solo. il mio uno ora è nascosto è confidenziale chi è mio uno? confidenziale perché my one in inglese vuol dire chi è mio e quindi ora è nascosto è una conoscenza confidenziale quindi Marashi dice chi è che è mio? di Krishna se io posso stare anche tutta la vita ma se non entro nelle argomentazioni confidenziali questo chi è mio di Krishna non lo capirò assolutamente però chi è chi è mio di Krishna? il mio di Krishna il mio di Krishna deve essere il migliore negli amici uno quindi fra le madri che sono tre una sola è la migliore e anche tra gli amanti ci sono tanti amanti di Krishna ma uno è l'uno di Krishna il mio di Krishna quello che è il mio sentimento dice quello che è il mio sentimento io lo connetto con quel sentimento se voi lo chiedete a Sadhu Maharaj chi è il mio chi è il mio uno di Krishna Sadhu Maharaj vi risponderà che è Radharani però qualcun altro che invece è nel Varsaliarasa vi dirà no quell'uno di Krishna quella renditi al mio è Yasoda è Yasoda Yasoda il mio è Yasoda quindi questi sono a seconda di commissione i miei sentimenti io mi connetto con essi il migliore amico e quindi dovete se uno questo sentimento del migliore amico uno deve identificare chi è il migliore amico di Krishna e seguire perché se no non verrà evocata la migliore amicizia anche per quanto ci riguarda se vuoi qualche amico devi e quindi se invece quello che vi interessa è l'amore di tipo coniugale dovete fare conoscenza con uno che è in quel sentimento lì voi volete invece il desiderio di offrire amore materno a Krishna poi dovete esistirsi da Devki madre Putana madre e quindi dovete selezionare fra Yasoda Putana e Devaki quale madre vi interessa di più prendere in considerazione giusto? quindi uno quell'uno a seconda del sentimento è un'altra cosa è un'altra è un'altra di Trinavarta e di pensare costantemente di Cristo, sempre di Cristo. Sempre. Uno sta facendo bhajan, sta chiantando le ruote, leggendo le scritture, le sastra. Ma durante la giornata la mente è un vortice. Ma durante il giorno la mente è un vortice, come Trinavarta. Che suggerisci? Come? Perché pensare solo a una forma così mi viene a pensare alle divinità, ma poi rimanere qualche secondo nella mente. Sì, perché se ho provato a pensare alle divinità, ok, posso provare, ma probabilmente rimanere solo un po' di seconda. Sì, questo è ora. E questo Trinavarta mi prende da qui e mi porta in giro dove non so. E appunto questa è la caratteristica di Trinavarta che mi prende da qui e mi porta in giro dove non so. Sì. E quello... E solo per misericordia uno può indurre... Cioè solo questa misericordia può dire a Trinavarta, per favore non disturbare il mio devoto. E quindi tutti questi diavolacci, satanassi, sono tutti dentro il nostro cuore. Sì. 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 Maragio lo spiega. E' facile da capire con questa storia come controllare questo Trinavarta. e Maragio dice che se lui racconta questa storia è facile capire come si può controllare il demoniaccio di Trinavarta. Sì. 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 Sì.